Dramma a Veggiano nel Padovano dove una bambina di appena 5 anni è morta colpita da 4 virus inutile il ricovero in ospedale e i funerali della piccola Beatrice Angela Gobbo venerdì nella Basilica di Santa Giustina. Influenza H1N1 due decessi a Vicenza in pochi giorni a preoccupare la gravità dei casi in poco tempo, un'anomalia secondo il direttore del reparto di rianimazione del San Bortolo. Ancora un dramma all'Ido di Venezia, Ophantenne perde il controllo della sua vettura precipitando in acqua in laguna e rimanendo incastrato. Sono iniziate le analisi dei carabinieri della Rissa di Parma sull'auto di Filippo Turet, il 22enne in carcere per aver ucciso la sua ex fidanzata Giulia Cecchettin. Arrestata una 36enne che ha speronato l'auto dell'ex collega che perseguitava da mesi mentre era parcheggiata davanti alla caserma dei carabinieri dove la vittima la stava denunciando. Gruppo di Ultra del Mantua bloccato prima dell'inizio della partita con il Padova Luganeo, la polizia ha scoperto delle lame e un coltello nascosti nell'asta di una bandiera. È stato chiuso per un giorno e mezzo per pulizia e disinfestazione la riapertura dopo le vacanze di Natale le operatrici avevano trovato i segni della presenza di un topo. Conto alla rovescia per l'inizio del Carnevale di Venezia che quest'anno partirà il 27 gennaio e avrà come tema conduttore Marco Polo e i suoi viaggi. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, la cronaca in apertura di questa edizione regionale dei nostri telegiornali con il dramma di Veggiano. Siamo nel Padovano dove una bambina di appena 5 anni è morta in ospedale colpita da 4 virus. Aveva solo 5 anni Beatrice Angela Gobbo e tanta voglia di vivere e di scoprire il mondo con il suo dolce sorriso. Beatrice però è morta il 4 gennaio nell'ospedale di Padova dopo aver lottato per alcuni giorni contro 4 virus che l'hanno colpita all'improvviso provocando un'emoragia cerebrale. Una bambina sana e solare Beatrice Angela che viveva con mamma e papà Aveggiano. Così la ricorda anche padre Federico Lauretta, parroco della Basilica di Santa Giustina che l'ha battezzata 5 anni fa. Il ricordo che ho è quello di una bambina vivace, felice, che amava la vita e proprio di recente il papà mi aveva fatto vedere anche un bellissimo video della recita, ultima recita natalizia all'asilo e la vedevi proprio una bambina carica di gioia. Veramente un funerale difficile anche perché comunque quando battezzi qualcuno in qualche modo poi entra nella tua vita, li vedi tutti come i tuoi figli spirituali e sarà veramente un momento difficile anche per noi nonostante la fede quando una giovane vita così ci lascia. I primi sintomi della malattia si sono manifestati il giorno di Capodanno quando la piccola ha iniziato ad accusare qualche linea di febbre è salita rapidamente fino a sfiorare i 39. Poi le condizioni si sono aggravate velocemente tanto che è stata soccorsa dal 118 e ricoverata in pediatria a Padova dove si è spenta il 4 gennaio. Per chiarire le cause della morte della bambina è stata eseguita l'autopsia. La famiglia distrutta dal dolore voleva in un ultimo gesto di amore donare gli organi della piccola ma non è stato possibile perché compromessi dai virus. A confortare Giovanni e Francesca, i genitori di Beatrice e Angela, padre Federico che celebrerà i funerali venerdì mattina alle 10 nella Basilica di Santa Giustina di Padova. Il giorno del funerale che sarà venerdì mattina cercheremo di parlare della vita, della bellezza della vita che per quanto corta può essere stata però Beatrice l'ha vissuta e l'ha amata fino in fondo. La famiglia non chiede fiori ma una donazione alla fondazione Salus Pueri per i progetti a favore del reparto di pediatria di Padova. Influenza H1N1, due i decessi a Vicenza in pochi giorni a preoccupare la gravità dei casi in pochissimo tempo. Due decessi ravvicinati di pazienti deceduti per le conseguenze del virus a H1N1 a Vicenza, le prime due vittime in Veneto di 55 e 47 anni, entrambi in condizioni critiche, in terapia intensiva a causa della polmonite interstiziale che porta insufficienza respiratoria, non ce l'hanno fatta per complicanze legate ad altre concause. Ancora critiche restano le condizioni di una donna ma a tenere alta l'attenzione, spiega il direttore del reparto di rianimazione dell'ospedale San Bortolo, è la presenza di un picco di casi gravi registrati in pochi giorni. Ho visto un andamento, a mio parere anomalo, delle presenze di infezioni in H1N1 che arrivano in animazione, sei casi nel giro di poco tempo non li avevo mai visti, ho guardato anche la curva, è una curva molto elevata. H1N1 è una variante dell'influenza A che può comportare anche gravi polmonite interstiziali. Ci sono stati sei casi in contemporanea, gli altri casi attualmente sono in miglioramento, permanano critiche. La situazione di una signora che abbiamo ancora in circolazione, sta corporea ma che sta recuperando piano piano, nonostante gli alti e bassi legate a questa patologia, la propria funzione polmonare, speriamo che da una situazione critica ne possa uscire. Errore chiamarla influenza suina, si tratta di una variante dell'influenza stagionale che circola in modo diffuso in tutte le stagioni influenzali e il vaccino contro l'influenza stagionale protegge anche dal virus. Ho la sensazione che si dimentano le vaccinazioni influenzali e questo ha comportato un aumento della patologia grave, questo è il mio pensiero e credo che sia legato proprio a tutto quello che c'è stato con il Covid su vaccini sì e vaccini no. Personalmente io sono per la vaccinazione e sappiamo che medicina, la forma più elevata di cura e di supporto alla popolazione è proprio la profilassi. Ancora un dramma, l'ido di Venezia, perdere la vita, un uomo di 80 anni, la sua vettura si è inabissata nella laguna. Era al volante della sua auto d'epoca un'arancia Fulvia Coupé quando forse a causa di un malore o per un guardo tecnico ha perso improvvisamente il controllo della sua auto ed è sbandato verso Deltra finendo così in laguna. Prima di precipitare in acqua, poco dopo le 11.30 di questa mattina, l'auto ha sfiorato un ragazzo, Alessandro Zago, che stava camminando sul marciapiede. Pochi istanti e la vettura si è inabissata. Al lido di Venezia in riviera Santa Maria Elisabetta, nonostante le urle di alcuni passanti, stessero disperatamente cercando di fermare una barca di passaggio per chiedere aiuto. Così è morto Enrico Magliocco, 80 anni, storico barista veneziano di Sant'Elena, da anni in pensione e da 12 anni residente al Lido, cugino di Roberto Magliocco, indicabile presidente dell'Arcom di Venezia. Il primo ad attivare i soccorsi è stato il consigliere di Municipalità Angelo Sabato, che transitava in quella zona e così racconta gli iltanti immediatamente successivi alla tragedia. Ero di ritorno verso casa con mia moglie e all'altezza del padronato di Santa Maria Elisabetta vedo delle persone con un faranomalo che gridavano che era caduta in acqua un'auto. Spiegai anche ai vigili del fuoco quello che era accaduto. Dopo poco mi chiama la polizia di Stato, che poi tra l'altro sono state anche prime ad arrivare assieme ai vigili del fuoco e da lì in poi non ho potuto fare altro che sperare per il povero malcapitato. Purtroppo però non c'è stato niente da fare, ancora un altro dramma al rido di Venezia. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia di Stato, polizia locale, carabinieri, capitaneria di Porto e guardie di finanza. Quando l'uomo è stato recuperato senza vita, il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. L'auto è stata recuperata con una gru e la sarma del pensionato messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Torniamo sul caso di Giulia Cecchettin perché sono iniziate le analisi dei carabinieri del RIS di Parma sull'auto di Filippo Turetta. A due mesi dalla morte di Giulia Cecchettin arrivano i primi accertamenti delle analisi che i carabinieri del RIS di Parma stanno effettuando sulla grande punto nera di Filippo Turetta. L'auto utilizzata dal ragazzo per caricare il corpo della giovane e poi trasportarla fino a Piancavallo dove l'ha gettata in un canalone vicino al lago di Barchis. L'analisi della macchina del killer di Giulia e di tutte le tracce di sangue è fondamentale per la ricostruzione dell'omicidio della studentessa avvenuto lo scorso 11 novembre. I carabinieri del RIS si concentreranno sul sedile posteriore del passeggero e sull'abitacolo dove le tracce sono più copiose ma anche sulle pareti e sul tettuccio. Verrà fatto un esame apposito per capire se si tratti di schizzi provocati dal ferimento della giovane all'interno dell'auto perché l'ipotesi più probabile è che la coltellata mortale sia stata inflitta a Giulia proprio mentre era all'interno della vettura. Le immagini delle telecamere della zona industriale di Fossò mostrano Filippo Turetta caricare Giulia in auto. Quello che le analisi vogliono capire è se la ragazza era ancora viva e poi sia stata coltellata a morte in macchina. Secondo l'autopsia effettuata il primo di dicembre all'Istituto di Medicina Legale di Padova, Giulia infatti sarebbe morta per dissanguamento provocato da una ferita profonda da lama al collo. Quando verranno effettuate queste analisi così specifiche saranno presenti anche i periti di parte nominati dai legali di Filippo Turetta e dalla famiglia Cecchettin. I carabinieri poi dovranno analizzare il coltello con il manico spezzato repertato a Fossò, il cellulare di Filippo Turetta e un pezzo di nastro adesivo. Rimaniamo nel Padovano. Telefonate, messaggi, appostamenti e pedinamenti. Non ce la faceva più una donna perseguitata dall'ex collega di lavoro che ieri pomeriggio si è presentata alla caserma dei carabinieri di Montegrotto Terme. La donna stava formalizzando la denuncia quando si è sentito un tonfo provenire dall'esterno. A causarlo era stata la ex collega che con la sua auto aveva speronato quella della donna parcheggiata davanti alla caserma. In colume, nonostante l'impatto, l'ex collega, una 36enne di Montegrotto Terme, è stata arrestata in flagranza per il reato di atti persecutori. Così dunque a Montegrotto. Primo colloquio con gli avvocati per l'uomo che ha lanciato dalla balcone di casa la figlioletta di 5 anni. Come sta la mia bambina? È stata la prima domanda che il 43enne che la sera del 5 gennaio buttato giù dal balcone di casa la figlia di 5 anni ha rivolto ai suoi avvocati nel primo incontro avvenuto nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Porto Gruaro dove al momento è in custodia cautelare. Un breve colloquio in cui è apparso provato e in cui ha ricostruito quanto accaduto quella sera. La bimba, ricoverata al caffoncello di Treviso, non è in pericolo di vita. Grazie al prato che ha tutito la caduta, se l'è cavata con un trauma cranico e 30 giorni di prognosi. Intanto si attendono gli esiti dei test tossicologici sul 43enne fondamentali per capire se quella sera fosse sotto l'effetto di qualche stupefacente. Secondo amici e familiari non c'erano stati segnali che potessero presagire un simile gesto. La notte precedente però i vicini dicono di aver sentito delle urla provenire dall'appartamento. Sempre per la cronaca, un gruppo di ultra del Mantua sono stati bloccati prima dell'inizio della partita con il Padova, lo stadio Uganeo con lame, un coltello nascosto nell'asta delle bandiere. Armati di coltello nascosto all'interno di un'asta portabandiere. Ecco in queste immagini come alcuni tifosi del Mantua lunedì sera stavano cercando di entrare allo stadio Uganeo in occasione del big match tra Padova e Mantua. L'arma è stata sequestrata dai poliziotti del secondo reparto mobile di Padova durante i controlli abituali che si fanno prima dell'ingresso allo stadio. Secondo il sindacato di polizia FSP, oltre al pugnale che si vede nelle foto e nel video e che è stato sequestrato dagli agenti della Digos, gli ultras del Mantua avevano anche altre lame sempre nascoste nelle aste portabandiere. La questura di Padova sta indagando per identificare i responsabili. Sembra non placarci la violenza negli stadi e il fatto che i tifosi mantovani stessero cercando di entrare con lame e coltelli fa supporre che avrebbero potuto utilizzarle in caso di scontri. Come sindacato di polizia siamo stanchi di dover contare ogni domenica i nostri colleghi feriti, ha dichiarato Maurizio Ferrara, segretario veneto del sindacato FSP. È una vicenda che ha inquietato e fatto discutere in questi giorni l'attentato rapimento a Mell. Per fortuna si tratta solo di un falso allarme. Le indagini immediatamente attivate dai carabinieri della compagnia di Feltre e da parte della stazione di Mell hanno permesso di chiarire l'accaduto. L'equivoco è stato generato da una quasi omonimia tra due ragazzi. Quello che aveva il permesso dei genitori è effettivamente uscito prima da scuola accompagnato da un insegnante mentre quello degli elementari per il quale si è ritenuto fosse stato fatto un tentativo in debito di portarlo via ha fatto scattare l'allarme. Insomma un grande equivoco sul quale ritorneremo nel corso dei nostri telegiornali nell'edizione di Treviso Belluno. Quindi di fatto il caso si può dire chiuso. Ed è stato chiuso fisicamente per un giorno e mezzo per pulizia e disinfestazione il nido Chiara Lubic di Padova e questo per la presenza di un topo. Sono stati trovati degli escrementi in una stanza che Fatalità aveva all'interno dei sacchetti di farina per la manipolazione delle attività che fanno i bambini solitamente. Naturalmente questo ha creato un problema alle operatrici e agli insegnanti che hanno pensato di mandare a casa i bambini dopo la mensa. Ripresa difficile dopo le vacanze di Natale per il nido Chiara Lubic di Padova. Ospite indesiderato un topolino che ha trovato casa nell'edificio di via Edrone per almeno due settimane. Numerosi disagi per i 50 bambini tra gli 0 e i 3 anni che lo frequentano. Mandati a casa in fretta e furia lunedì dopo la mensa anche nella giornata di martedì i genitori si sono dovuti arrangiare. Oggi invece sono presenti tutti perché è stato rilevato la presenza di questo topolino che è stato tolto di mezzo, è stato pulito tutto l'ambiente, bonificate i lettini perché potrebbe esserci magari stato il passaggio del topolino sulle brandine e quindi è stato pulito tutto, è ripassato tutto l'edificio e quindi per maggior sicurezza verso i piccoli che naturalmente gattonano e toccano per terra e hanno bisogno della maggiore pulizia. Non l'unico problema per la scuola e gli istituti dell'area sottolinea Rossella Salvan, vicepresidente della consulta di quartiere 2. Questa scuola in particolare aveva ricevuto segnalazioni riguardo delle infiltrazioni d'acqua e pertanto c'è un salone dove essendoci una vetrata da lì penetrava l'acqua durante le piogge. E' chiaro che anche quello è un disagio, ma anche altre scuole hanno questo problema. La scuola media che abbiamo alle nostre spalle, che è la Briosco, ha due aule chiuse dovute proprio alle infiltrazioni d'acqua. C'è la scuola muratori che da anni chiede il rifacimento dei bagni. Non è giusto che gli alunni e i genitori debbano comunque soffrire e anche gli insegnanti debbano soffrire di questa situazione che non è certo piacevole. I temi della politica dell'attualità c'è il primo via libera alla cancellazione del reato d'abuso d'ufficio e c'è la soddisfazione dei sindaci. Anci e sindaci plaudono al primo via libera in Commissione Giustizia Senato alla cancellazione del reato di abuso d'ufficio che colpisce chi commette illeciti nell'esercizio delle proprie funzioni di pubblico ufficiale e quindi funzionali pubblici, ma spesso anche sindaci e amministratori locali. Nonostante le richieste di modifica del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la maggioranza e Italia Viva hanno approvato l'articolo 1 del DDL Nordio, contrari PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Una battaglia questa portata avanti proprio dei primi cittadini. Il Presidente Anci Veneto Mario Conte ricorda che furono proprio lui e il Presidente Anci Nazionale Antonio De Caro a presentare le preoccupazioni dei sindaci al Ministro della Giustizia. Non chiedevamo di essere esentati dalle responsabilità perché noi siamo i primi a volere le responsabilità e siamo i primi a dire che chi sbaglia deve pagare. È altrettanto vero che gravavano e gravano su di noi delle responsabilità indirette che molte volte ti tolgono la serenità e la paura della firma paralizzava il sistema o peggio ancora allontanava le persone per bene che volevano affrontare per esempio l'esperienza amministrativa tanto che i candidati alla carica di sindaco sono sempre meno. Una volta terminato l'esame del testo in commissione il disegno di legge dovrà passare in Parlamento ed essere approvato da entrambe le Camere. Con la riforma gli amministratori condannati in primo grado potranno restare al loro posto e non dovranno più dimettersi come accade invece oggi. Noi dobbiamo operare sempre nella legalità però è altrettanto vero che trovarci responsabili o iscritti al registro degli indagati per azioni che non sono direttamente dipendenti dal sindaco. Credo che francamente sia un po' troppo. Con questa modifica sicuramente recuperiamo un po' di serenità e anche le responsabilità ci fanno decisamente meno paura. Roberto Vannacci, il generale delle polemiche, è arrivato in Veneto ieri sera a Castelfranco. Ci saranno questi maschi che maltrattano le donne però non credo che sia un fenomeno maggioritario. C'è, ma non credo che possiamo invece considerare questo fenomeno come un fenomeno pervasivo della società. Ora non è chiamare il sindaco sindachessa che ci fa meno patriarcali, sinceramente. secondo me è un'idiozia. I femminicidi come fenomeno minoritario, il femminismo come primo movimento ad aver messo in crisi l'idea della famiglia tradizionale, negazionismo climatico, l'omosessualità come fenomeno non normale. Il contesto contemporaneo dove essere normali è la rivoluzione. Questi i principali temi trattati nella lunga presentazione del libro del generale Vannacci a Castelfranco Veneto. Sala convegni dell'hotel Fior Gremita. Circa 300 persone arrivate per ascoltare il mondo al contrario, descritto da Roberto Vannacci. Tra loro anche esponenti della politica locale e provinciale. Volevo sentire direttamente dall'autore le proprie idee e capire anche insomma tutto quello che pensava rispetto anche a quello che ha scritto. Non è qui perché sospetta una sua adesione alla politica? No, no, assolutamente. Ma di politica si parla e si è parlato dopo che Matteo Salvini ha fatto sapere che non vedrebbe male una candidatura del generale alle europee sotto il simbolo del carroccio. Non parlo di politica il commento del generale che però non ha né confermato né negato. Io ho già ringraziato per questa offerta perché vuol dire che riconosce in me qualche capacità altrimenti non l'avrebbe fatto e ho detto che valutare ovviamente fredda continuando a fare il soldato. Lo vedrebbe in politica? Penso di sì, penso insomma che abbia la stoffa, un ottimo eloquio, molto convincente, ha parecchia scendenza. Adoro il generale Vannacci e penso che il mondo debba un po' cambiare perché stiamo andando proprio su una strada che non è proprio corretta. Se Vannacci si candidasse lo voterebbe? Dipende con chi si candida, non è che sto a votare Vannacci in quanto tale. Osserva l'Italia e ne vede le debolezze. E se si dovesse candidare lei lo voterebbe? Non lo vedo candidato. È uno scrittore intelligente che ha svolto attività militare quindi di una certa importanza che gli dà quella forza, è vero, e quella capacità di discernimento. La politica, la Lega in Veneto, vuole festeggiare ogni anno il referendum consultivo sull'autonomia regionale del 2017, proponendo l'istituzione della giornata dell'autonomia il 22 ottobre, giorno in cui si svolse la consultazione popolare. Lo prevede il progetto di legge presentato oggi alla Commissione del Consiglio regionale da Marco Zecchinato, consigliere della Lega Liga Veneta. E noi adesso parliamo di Carnevale perché di fatto è conto alla rovescia. Partiamo dal Medioevo con tutti i suoi mostri, con tutte le fantasie, i suoi miti, e arriviamo all'Oriente attraverso l'occhio di Marco Polo. A 700 anni dalla sua scomparsa, Venezia dedica il Carnevale ad uno dei suoi più illustri cittadini. Suggestivamente intitolato ad Oriente il mirabolante viaggio di Marco Polo, dal 27 gennaio al 13 febbraio, il Carnevale 2024 avrà come tema conduttore il viaggio. Un viaggio vero, denso di incontri e di scoperte, ma anche un viaggio immaginario, di invenzioni e fantasia, oppure ancora un viaggio interiore, un percorso alla ricerca di se stessi. Il Carnevale moderno ha sempre voluto seguire le scadenze, pensiamo ai 1600 anni di Venezia. Il tema di quest'anno è particolarmente suggestivo e arricchirà con delle caratteristiche particolari una struttura peraltro consolidata perché il Carnevale di Venezia deve mantenere anche le sue caratteristiche che negli ultimi anni sono quelle della massima diffusione sul territorio e anche di questo allargamento del programma ai tre weekend. Come sempre a Venezia, storia ed arte donano spessore culturale ad iniziative che poi sono di festa pura, di un divertimento che in quei giorni sarà diffuso in tutto il territorio cittadino, dalle isole alla terraferma. 180 artisti di strada, circensi, bravissimi, sparsi per tutta la città. Poi avremo anche il Capodanno cinese, quindi un pezzo d'Oriente, come si diceva, ci sarà anche veramente qua dal vivo e poi avremo il dinner show al Palazzo Calergi e all'Arsenale il grande spettacolo sull'acqua che quest'anno è particolarmente dedicato a Marco Polo. Manca davvero poco e manca pochissimo al nostro meteo. Ci salutiamo qui, buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Trebaseleghe e presso lo spaccio del Contadino a Dolo e Massanzago. Ben trovati al meteo. Tempo stabile sul nostro territorio, ci attende un'altra splendida giornata di sole. Previsioni per giovedì 11 gennaio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, non sono attese piogge. Il cielo sarà sereno o al massimo velato. Il pericolo di valanghe sulle Dolomiti e sulle Prealpi sarà moderato, grado 2 della scala. Temperature stazionarie, minime sotto zero, massime comprese tra 4 e 5 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole, cielo sereno, con ottima visibilità e con locali gelate notturne. Al mattino sul Tarvisiano sarà possibile la presenza di nubi basse, specie a fondo valle. Temperature minime sotto zero, massime sui 5-7 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà anche in questo caso soleggiato, salvo la presenza di qualche nebbia, al primo mattino. Temperature minime tra meno 1 e meno 3 gradi, massime sugli 8 all'incirca. Dal Meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Trebaseleghe e presso lo spaccio del Contadino a Dolo e Massanzago.